benvenuto sul sito della media planner lab agenzia di comunicazione specializzata in servizi di marketing e pubblicità sui new media e su quelli tradizionali la nostra azienda la media planner lab è infatti un laboratorio di professionisti che conoscendo profondamente il mondo dei media pubblicitari e promozionali sono nella condizione di dosare il budget globale di un cliente in appropriate quote scegliendo in quale settore concentrare i messaggi pubblicitari allo scopo di massimizzare il rendimento di ogni tipo di campagna pubblicitaria abbiamo la soluzione per voi possiamo e vogliamo essere l'unico referente per la vostra campagna su qualsiasi mezzo pubblicitario così risparmierete tempo e denaro contattateci a